Si intitola Tutti A ed è il nuovo singolo di Erpiotta all'anagrafe Tommaso. In uscita domani 12 maggio 2023 nelle principali piattaforme digitali ma anche in radio una grande musica, una grande bravura messa in atto o meglio in campo dal grande Erpiotta. Il famoso cantante romano per eccellenza, noto a tutti, grandi e piccoli, per la sua verba ma soprattutto per la sua grande bravura. In questo pregiato brano musicale secondo me l'inghido che rivolge il buon Piotta, idealmente parlando a chi eventualmente ascolta il brano, è quello forse di andare in chissà quale direzione, in chissà quale meta. Tutti A, non si sa dove andare. Sarà forse, domanda mia di un narratore italiano, un invito ad andare tutti a quel paese che il Piotta all'anagrafe Tommaso avrebbe deciso di compiere, barra di realizzare. Non si sa. Ai posteri, l'ardua sentenza sta di fatto che il testo incalzante vibra di una piacevole ironia che va a farsi appressare in tutti questi anni una risposta irreverente a quelle che sono le difficoltà della vita che si paresano in tutte quelle situazioni di grande disagio, di grande complessità che purtroppo riescono a essere purtroppo presenti in ogni vita umana. Ed ecco che il Piotta non perde occasione di rilassarci grazie alla sua voce, grazie al suo timbro, grazie alla sua sonorità, riuscendo a fare il meglio di sé. Dal narratore italiano di tutto, complimenti a il Piotta. Grazie.